ragazzi non ve lo dico mai mettete mi piace ai video cazzo soprattutto questo in questo momento allora principalmente voglio dire una cosa ok ho eliminato il video sulle nostre avversarie spagnole non farò più quel tipo di rubrica perché a me dispiace non farlo però c'è un lavoro mio e di Damiano che mi aiuta dietro per appunto informarci insomma sugli acquisti sulle sessioni fatte appunto dalle squadre europee che dovrebbero essere le nostre avversarie in Europa e dopo un'ora e mezza a vedere 330 visualizzazioni sinceramente a me a me a girare le palle quindi ve lo dico non è un attacco e quant'altro ma semplicemente perché io è vero qualcuno potrà dirmi sì ma noi abbiamo per carità però sicuramente dall'altra parte da questa parte e dalla parte anche di Damiano c'è un lavoro dietro e quindi se vedi che non hai riscontri tra l'altro appunto ripeto ho eliminato quel video fa girare le palle non mi interessa delle motivazioni quello che potete avere quello che volete avere tutto capibile però da questa parte potete penso anche capire poi levando che ci sono altri youtubers che una volta hanno iniziato a fare youtube come gameplay o altre cazzate adesso hanno visto che la youtube calcio sta avendo insomma importanza su youtube adesso dalle loro centinaia di migliaia di iscritti o milioni di iscritti si aprono altri canali quindi portano la gente la da migliaia o milioni di iscritti a quelli a quei canali li affossando noi che noi siamo nati come canali calcistici e questa cosa qui non la dico per me che ho 10 mila iscritti ma la dico anche per altri che hanno 40 50 100 mila iscritti a me dà fastidio a me e non solo a me ve lo posso assicurare anche a molti altri colleghi su youtube dà fastidio ok perché significa che loro non lo fanno per passione per competenza per quello che volete ma semplicemente per moda per soldi perché di fatto i soldi sfruttano il fatto che il calcio sia uno sport molto popolare seguito anche su youtube adesso sfruttano i loro iscritti che hanno già da altri canali principali per avere ancora più visualizzazioni soldi e per di fatto affossare invece chi è nato per fare quello chiusa parentesi per quanto riguarda emre chan e società emre chan ha appena fatto un comunicato allora io non voglio entrare in merito di chi ha ragione torto e quant'altro secondo me tutti hanno le proprie ragioni e i propri torti emre chan ha sbagliato sicuramente i modi e quant'altro la società però che poi sarri quando disse quella cosa lì degli esuberi ok che era imbarazzante avere così tanti esuberi non aveva torto perché poi adesso ci siamo trovati in questa situazione in questa condizione qui nella quale sarri viene messo sulla graticola ok quando la responsabilità principale è della società che non si è sbarazzata di alcuni elementi poi ha dovuto fare una scelta escludere emre chan o matto i di in questo momento vi ho già detto ieri sera che sarri vede meglio matto i di per un discorso di condizione fisica fisico condizione fisica scusate per un discorso di adattamento al modo di giocare i sarri che prevede anche la fase di non possesso non solo quella di possesso palla quindi pressing ultra offensivo matto i di lo fa alla perfezione in questo momento le prime partite che abbiamo visto e emre chan oltre ad essere fuori condizione anche fuori dagli schemi probabilmente di sarri e questo ha pesato molto molti dicono sì ma emre chan lo sapeva perché è stato messo in vendita e quant'altro anche matto i di però allora perché matto i di è stato messo in lista però era stato messo anche sul mercato cioè è normale che emre chan vedendo queste cose qui bisogna anche capire il giocatore si incazza e poi pubblicamente ragazzi ognuno ha il proprio carattere può essere impulsivo e emre chan lo è e dire quelle cose lì sbagliate o meno però per me anche quelle cose sono rispettabili significa che la società non è stata molto chiara prima perché se adesso emre chan fa questo comunicato sui social suoi insomma evidentemente la società ha comunicato in questo momento a emre chan perché è stato escluso mi viene a pensare questo perché emre chan nell'anno degli europei viene escluso sei mesi dalla lista champions league dubito voglia rimanere per un discorso di dispetto alla società ok dato che comunque ha scritto che è grato alla società perché è stata vicino a lui soprattutto nel momento del della malattia dello scorso anno e dubito sia rimasto la juventus perché sperava una volta comunque avendo avuto insomma la comunicazione che non sarebbe stato in lista champions sperava comunque di un cambiamento di idee all'ultimo non penso che lui insomma sia così stupido ok per rischiare sei mesi quando sai o quando sa comunque che c'è molto c'è una percentuale molto elevata di stare fuori ok quindi io penso che non dico balle però qualcosa non quadra sia da una parte sia dall'altra perché la società siccome ripeto ha sbagliato a mettere in questa situazione in questa condizione soprattutto sarri che sarri è l'allenatore e viene messo lui sulla gratticola perché è escluso emre chan che ha i suoi motivi ok però probabilmente se avessero ceduto prima matto id magari amre chan sarebbe stato inserito sulla nella lista ok che appunto matto id comunque in questo momento è più utile ma magari puntando di più su emre chan poi avremmo notato che anche emre chan poteva tranquillamente fare quel quel tipo di lavoro non lo sappiamo perché comunque abbiamo visto molto più matto id che emre chan poi è vero in allenamento lui sarri martuscello vedono meglio e di più i giocatori rispetto a noi per carità però sicuramente il fatto che non siano stati ceduti certi giocatori prima evidentemente crea qualche problema a sarri e questo è un problema imbarazzante quello che è venuto fuori oggi è imbarazzante per tutti noi tifosi una cosa che non si vedeva da tanto alla juventus e che a me ha dato fastidio a me particolarmente come tifoso juventus ha dato fastidio ok perché sono cose che non dovrebbero uscire sono cose che ha sbagliato ripeto emre chan ma sono cose che nascono dalle dall'inizio dagli errori iniziali della società lo ripeto comunque questo è il quanto emre chan ha chiarito adesso speriamo che lui veramente adesso si metta a disposizione del mister per il campionato faccia un lavoro pazzesco e a gennaio si riconquisti il posto ok in lista champions league e nel frattempo da titolare in campionato io spero che amre chan adesso veramente tiri fuori le palle perché per me ce le ha per me è un grande ragazzo d'oro secondo me si è una cosa che può capitare sfogarsi così non dovrebbe capitare la juventus e va bene sono umani sono umani però ok sono umani e vedremo come andrà a finire vedremo se le cose si risistemeranno se ci sarà del rancore tra società e giocatore mister giocatore vedremo in questi mesi come andranno le cose io sono fiducioso sia in sarri sia in amre chan sia nella società per gestire questa situazione anche perché è lei che deve un po rimediare a certe cazzate fatte o a gennaio partirà ok questo è il pensiero mio dispiace però c'è più che altro che dire ma tu di quello che vogliamo non sono fenomeni a differenza di quello che dice qualcuno non sono fenomeni sono buoni giocatori perché se fossero fenomeni avrebbero avuto e ricevuto offerte di 20 30 milioni per essere presi invece no invece non erano neanche disposti a pagare ingaggi a questi giocatori evidentemente non sono questi fenomeni sono buoni giocatori erano ai tempi migliori ottimi gregari nulla di più i fenomeni sono altri i fenomeni sono quelli che ai quali arrivano offerte da 100 milioni 80 milioni e 8 milioni l'anno almeno quelli sono fenomeni i xavi i niesta i modric i cross i pogba quelli sono fenomeni i fenomeni quelli sono quelli che vengono consigliati fenomeni cioè che dire ma tu di sono semplicemente ottimi giocatori adesso buoni giocatori nulla di più hanno fatto delle partite ottime in questo inizio di stagione bisognerà vedere perché comunque sono over trentenni ed è una cosa molto pesante alla lunga andare della stagione secondo me ok questo è il quanto per quanto riguarda emrezzan vedremo come andrà a finire io non do ragione o torto a nessuno però sicuramente era una situazione da gestire molto meglio dalla società anche magari a sarri anche e soprattutto a emrezzan emrezzan è una società soprattutto sicuramente che poi la responsabilità cade su sarri ma siccome sarri in questo momento è quello che ha meno responsabilità di tutte anche se lui alla fine di tutti anche se lui alla fine a fare la lista champions league però in questo momento cosa fai hai provato di più che dire a piani semato id ok con rabbiò subito dopo a parte che è entrato sabato cos'è che fai levi questo tra virgolette mini zoccolo duro che ti si è creato in questo inizio di stagione per far sì che tutta la squadra assembli bene i meccanismi di gioco era non dico prevedibile venisse escluso lui però sicuramente tra uno tra lui e ram si sarebbe stato escluso ram si al cento per cento in condizione per me in questo momento è già pronto cioè se fosse se non avesse l'infortunio sarebbe il centrocampista per me più pronto per il centrocampo di sarri questo poco ma sicuro perché è quello che per me veramente ripeto come fisionomia di giocatore come tecnica e tattica è anche meglio di che dira a mio avviso detto questo vi auguro buona giornata a tutti sempre comunque fino alla fine forza juventus e mettete mi piace al video mi raccomando grazie a tutti